Single per legittima difesa è un libro che ironicamente esplora il complesso mondo delle relazioni tra uomo e donna ai giorni nostri e il loro reciproco interagire, cercando di dare un senso a comportamenti spesso indecifrabili del maschio moderno. Attraverso il racconto sarcastico di storie tutte rigorosamente vere, Nunzia Marciano racconta i comportamenti spesso paradossali dei maschi e i risvolti psicodrammatici dei legami ai tempi moderni. Il libro è stato presentato alla biblioteca Morlicchio di Scafati. Il titolo ovviamente è quel titolo che deve attrarre, però per fortuna in questo libro c'è il sottotitolo che disambigua. In un mondo in cui i bicipiti si buttano e i neuroni vanno cari, scegliere di stare da sole non è solitudine, è coraggio. Per cui è un messaggio fondamentalmente non di singletudine e dunque che debba far rima con disperazione, ma dell'essere single poiché si è coraggioso nel cercare e nel volere anche il vero amore. Questo è un libro che posso dirlo adesso, è uscito più di un anno fa, ma siamo qui a Scafati, alla biblioteca Morlicchio e ancora questi sono temi che possiamo dire ovviamente ci toccano un po' tutti, in un modo o nell'altro. Si parla tanto del maschio fedigrafo impenitente e quanti noi ne vediamo nelle aule dei nostri tribunali, ma ciò che probabilmente le donne, le mogli non sanno è che il tradimento della nostra giurisprudenza viene letto in maniera particolare e a molte donne appare questa lettura incredibilmente strana. Cari amiche, pensate che molte volte pur avendo la possibilità di dimostrare il tradimento, una moglie che sia stata appunto cornificata non potrà ottenere la giusta legittima rivalsa perché dovrà anche dimostrare che quel tradimento o meglio la scoperta di quel tradimento è stata la causa unica, esclusiva della crisi dell'Unione e quindi bisogna essere molto attenti, bisogna essere soprattutto tempestive e non legittimare in alcun modo i comportamenti fedigrafi del compagno o del marito. L'iniziativa dedicata alle donne con un libro scritto da una donna, una donna che legge molto e che dà molta importanza alla lettura, poi vedremo perché. La biblioteca Morlicchio forse è l'unica biblioteca del territorio campano ad avere una sezione donna.